Villa Marina si scopre una neopromossa che in casa difficilmente lascia punti. Se alla prima derby col Granata era sfumato, la vittima sacrificale nella domenica pomeriggio si chiama Mondaino e per rappresentare la forza avversaria di una compagina, a mio avviso, tra le più attrezzate per il sogno promozione bastano due nomi, Pagnini e Corsetta. L'inizio, a cura della nostra Jenny Bronzetti a livello di immagini, non a caso è di marca ospite e proprio i due citati creano questa occasione che porta a un tiro cross insidioso, mentre Corsetta poco dopo chiama la respinta all'attento portiere di casa direttamente da calcio piazzato. Ancora Pagnini sugli scudi, tiro a giro con nuova respinta di guerra. Bianchi e Lorenzini provano a questo punto a confezionare la risposta degli uomini di casa, ma nulla da fare. Mentre sull'alto versante il tiro di Baffioni viene respinto da guerra, squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Mondaino ha un calo improvviso, il Villa Marina ringrazia e confezione in gode vantaggio con un rocambolesco pallone che sbatte anche sul corpo di Cangini. Alibrio timbra il cartellino marcatori. Lo stesso Alibrio cerca poco dopo il raddoppio, ma trova il legno alla sinistra dell'estremo ospite. Bianchi però non si fa pregare, perviene al raddoppio mostrandosi ancora una volta micidiale in fatto di contropiede. Pallonetto per i 2-0 del Villa Marina e via al festival della gioia bianco-blu. Magnani a questo punto tenta la risposta, ma il tiro a giro non incide. Farabegoli invece in contropiede al proprio feo to finish si divora il Triss, ma davvero un Villa Marina cinico e spietato come non mai. Mondaino che dimostra forza e coraggio, ma non è giornata. Grazie.